c'è uno che entra al bar barista un doppio whisky per favore accidenti ti vedo male amico che succede beh sai problemi con mia moglie dai abbiamo tutti i problemi ah ti spiego ho litigato beh capita prima o poi e lei non mi rivolge più la parola per due mesi dai capita anche questo non te la prendere no ma c'è una cosa ancora più grave cosa che i due mesi finiscono domani